L'8 settembre 2024, la Corte d'Appello di Bologna ha emesso un verdetto significativo. Greta Letizia Veronese, vedova del celebre cantante italiano Lucio Battisti, è stata assolta dall'accusa di calugna. Questa decisione ha ribaltato una precedente sentenza del gennaio 2021, in cui un tribunale di Rimini aveva condannato la Veronese a 16 mesi di reclusione. La soluzione segna la fine di una lunga battaglia legale nata da una lite tra vicini. Il conflitto ha avuto origine all'inizio dell'estate 2012. Era un periodo di tranquillità, con il sole che splendeva e i vicini che si godevano il clima estivo. Tuttavia, sotto la superficie, si stavano seminando i semi della discordia. Al centro della questione c'erano le modifiche apportate alla proprietà della Veronese. La famiglia Veronese aveva deciso di rinnovare la loro casa, un progetto che avrebbe dovuto migliorare la loro qualità di vita. Ma non tutti erano d'accordo con queste modifiche. In particolare, l'installazione di alcune finestre è diventata un punto di contesa con i suoi vicini. Le nuove finestre, progettate per portare più luce naturale all'interno della casa, erano viste come un'invasione della privacy dai vicini. Queste finestre, secondo le accuse, si affacciavano su uno spazio comune e sulla facciata della proprietà del vicino. I vicini temevano che le loro vite private sarebbero state esposte agli occhi indiscreti della famiglia Veronese. Questa disputa sulle modifiche alla proprietà e sulle preoccupazioni per la privacy sarebbe diventata il catalizzatore della battaglia legale che ne è seguita. Le tensioni aumentarono, con entrambe le parti che si sentivano vittime di un'ingiustizia. La questione finì in tribunale, dove le argomentazioni legali si intrecciarono con le emozioni personali. La comunità, una volta unita, si trovò divisa da questa controversia, con ogni vicina che prendeva posizione in questa battaglia di principio e privacy. Per comprendere l'enfasi sulla privacy, bisogna considerare l'eredità di Lucio Battisti, Battisti. Cantante e compositore di fama mondiale, Battisti è stato un gigante della musica italiana. I suoi contributi al mondo della musica sono incommensurabili. Tuttavia, Battisti era noto anche per la sua riservatezza. È risaputo che si sia ritirato dalla vita pubblica nell'ultima parte della sua carriera. Questo desiderio di privacy si estendeva alla sua famiglia e alla sua casa. Durante un'udienza del 2012 relativa alla controversia sulla proprietà, la tensione era palpabile. Le persone presenti in aula erano ansiose di vedere come si sarebbe risolta la disputa tra i due vicini. La Veronese ha accusato il suo vicino di aver fatto false dichiarazioni riguardo alla proprietà contesa. Le sue parole erano cariche di emozione, e l'aula era in silenzio mentre lei esponeva le sue accuse. Questa accusa ha portato alle accuse di calunnia contro di lei. Il vicino, visibilmente irritato, ha risposto con fermezza, sostenendo che le sue dichiarazioni erano veritiere e basate su fatti concreti. Le affermazioni del vicino riguardavano la legalità dell'installazione delle finestre. Secondo lui, le finestre erano state installate senza i necessari permessi e violavano le normative locali. La Veronese, tuttavia, ha sostenuto che le modifiche erano necessarie per motivi di sicurezza e privacy. Ha spiegato che la sua casa era stata oggetto di intrusioni e che le nuove finestre avrebbero garantito una maggiore protezione. Ha sostenuto che la fama del suo defunto marito rendeva necessarie tali misure. La sua difesa era basata sul fatto che, essendo vedova di una persona famosa, la sua privacy era costantemente minacciata. Nonostante la sua difesa, il Tribunale di primo grado di Rimini ha ritenuto la Veronese colpevole di calunnia nel 2021. La sentenza ha lasciato molti in aula sorpresi, e la Veronese ha mostrato un'espressione di incredulità, mentre il giudice pronunciava il verdetto. La decisione del Tribunale ha segnato la fine di una lunga e travagliata battaglia legale, ma ha anche sollevato molte domande sulla giustizia e sulla verità delle accuse. La Veronese, rappresentata dall'avvocato riminese Piero Venturi, ha impugnato la sentenza di condanna. Il caso è arrivato alla Corte d'Appello di Bologna. La Corte d'Appello ha riesaminato meticolosamente le prove e le argomentazioni giuridiche presentate. La loro analisi si è concentrata sulla natura delle accuse e sulle prove a loro sostegno. Questo esame approfondito si sarebbe rivelato cruciale per il verdetto finale. La decisione della Corte d'Appello di assolvere la Veronese non si è basata su tecnicismi procedurali. La Corte ha invece ritenuto che le prove presentate contro la Veronese fossero insufficienti a dimostrare la calunnia. Hanno stabilito che le accuse mosse dalla Veronese al suo vicino durante l'udienza del 2012 erano prive dell'intento doloso richiesto per una condanna per calunnia. Questa conclusione evidenzia l'importanza di prove concrete nei casi di calunnia. Il caso Veronese offre uno spaccato sulla complessità della legge sulla diffamazione in Italia. La calunnia è considerata un reato grave. Implica il formulare consapevolmente false accuse contro un'altra persona, con l'intento di danneggiarne la reputazione. L'onere della prova in questi casi spetta all'accusa. Essa deve dimostrare sia la falsità delle accuse che l'intento diffamatorio. La soluzione sottolinea l'alto livello di requisiti per le condanne per calunnia nel sistema giuridico italiano. Sebbene la soluzione porti con sé un senso di chiusura, è fondamentale riconoscere il peso che questa battaglia legale ha avuto su Greta Letizia Veronese. Affrontare battaglie legali non è mai facile. Lo stress emotivo, l'onere finanziario e lo scrutinio pubblico possono essere schiaccianti. Per la Veronese queste sfide sono state aggravate dal fatto che il caso ha fatto risorgere il ricordo del suo defunto marito e della sua preferenza per la privacy. Il caso Veronese si estende oltre i confini dell'aula di tribunale. Solleva interrogativi sull'equilibrio tra il diritto alla privacy individuale e gli interessi della comunità. In un mondo sempre più interconnesso, dove si traccia il confine tra spazio personale e spazi condivisi. Come possono i vicini di casa gestire i disaccordi in modo rispettoso, nel rispetto dei reciproci confini? Questi interrogativi sono particolarmente rilevanti nei casi che coinvolgono personaggi pubblici in cerca di privacy. La soluzione di Greta Letizia Veronese segna la fine di un capitolo lungo e arduo della sua vita. Il caso ci ricorda che la ricerca della giustizia può essere un processo complesso e spesso lungo. Sottolinea inoltre l'importanza del giusto processo e del diritto a un processo equo. La decisione del tribunale, basata su un esame approfondito delle prove, evidenzia i principi di equità e di presunzione di innocenza. Sebbene il caso Veronese si sia concluso, lascia dietro di sé alcune domande in sospeso. Questo caso ha attirato l'attenzione non solo per la sua complessità legale, ma anche per le implicazioni sociali e morali che ha sollevato. Quale sarà l'impatto di questo caso sui futuri casi di calunnia, in particolare quelli che riguardano liti tra vicini? Le tensioni tra vicini sono comuni, ma raramente raggiungono le aule di tribunale. Questo caso potrebbe cambiare il modo in cui le persone percepiscono e gestiscono tali conflitti. Porterà a una maggiore attenzione alla mediazione e ai meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie, per evitare che tali conflitti degenerino in battaglie legali? La mediazione offre un'opportunità per risolvere le dispute in modo più pacifico e meno costoso, ma richiede la volontà delle parti di collaborare. Le risposte a queste domande devono ancora essere trovate. Tuttavia, è chiaro che il caso Veronese ha aperto un dibattito importante su come la legge può e deve intervenire in questioni di calunnia e diffamazione tra privati cittadini. Tuttavia, il caso Veronese rappresenta un valido caso di studio nell'intersezione tra privacy, diritto di proprietà e legge. Esso ci invita a riflettere su come bilanciare i diritti individuali con il bisogno di mantenere l'armonia sociale. In un'epoca in cui la privacy è sempre più minacciata, questo caso ci ricorda l'importanza di proteggere i nostri diritti senza compromettere quelli degli altri. Grazie. Grazie. Grazie.